regione lombardia quest'anno sta lavorando con molto impegno insieme alla commissione europea per definire una serie di fondi per la coesione sono circa 3 miliardi di euro che vanno per la programmazione per il 2021 fino a 2027 sono temi molto importanti come l'innovazione la competitività il lavoro l'energia rinnovabile la qualità dell'aria ma non dobbiamo dimenticare anche la mobilità sostenibile e l'inclusione sociale per quanto riguarda poi le politiche territoriali le strategie di regione lombardia è quello di finanziare anche per questo periodo dal 21 al 27 con 90 milioni di euro tutte queste informazioni possono essere raggiunte e ricevute tramite il sito internet www.eu.regione.lombardia.it inoltre per quanto riguarda le autorità di gestione sono a disposizione per darvi tutte le informazioni possibili anche perché i bandi sono in fase di realizzazione ma non si sono ancora predisposte alle date